Non soltanto il caos negli accessi al pronto soccorso. La sanità calabrese e cosentina in particolare è afflitta dal problema delle liste di attesa. Per alcune prestazioni bisogna aspettare anche più di 90 giorni. L'alternativa è rivolgersi alle strutture private o pagare il ticket per l'urgenza con notevole agravio dei costi. I consiglieri comunali di Palazzo dei Bruzzi, Giovanni Ciparone e Sergio Del Giudice, insieme all'ex assessore alla salute Massimo Bozzo, hanno organizzato un sit-in davanti alla sede dell'azienda sanitaria provinciale per denunciare i disagi avvertiti dall'utenza e mettere in atto le giuste soluzioni. Pagare una prestazione d'urgenza in una struttura pubblica come l'ospedale dell'annunziata, oltre 350 euro, è qualcosa che ci indigna e ci sta portando veramente al collasso. Ci sono tanti cittadini che hanno denunciato le lunghe liste d'attesa per un esame importante. Noi abbiamo un ospedale al collasso da molto tempo, soprattutto perché c'è un territorio, un'azienda territoriale che non riesce a fare filtro nel resto della provincia. Ecco per questo motivo, noi questa mattina abbiamo iniziato questa nostra protesta, che non finirà oggi, davanti alla sede dell'Asp provinciale. Noi chiediamo soltanto che la sanità sia per tutti. Io purtroppo, ahimè, sulla mia pelle, ho dovuto fare tante cose due o tre mesi fa per quanto riguarda un problema che ho. In due giorni la regione Campania mi ha risolto il problema. Noi vogliamo che anche qui in Calabria e questi politici che oggi ci governino si mettano una mano sulla coscienza e aiutino i cittadini. Salvatore Bruno per la Cinews 24. Salvatore Bruno per la Cinews 24.